Ciao ragazzi, benvenuti a tutti. Io sono Francesco Placci e questa è la chiacchierata che facciamo tutti i fine settimana circa l'andamento dei mercati finanziari. Prima di entrare però nel vivo vi invito come di consueto a iscrivervi al nostro canale e lasciare anche già un bel like a questo video. Ciao, tornare a Unger, per molti anni ho sbattuto la testa sui mercati finché non ho sviluppato il mio metodo di trading automatico. Lo stesso mi ha permesso di diventare l'unico quattro volte campione del mondo di trading. Iscriviti al nostro canale per spunti e consigli gratuiti. Settimana non facile per i mercati, vediamo scendere l'azionario, l'obbligazionario, i metalli e salire soprattutto gli energetici e i cereali. Quindi in realtà nulla di nuovo rispetto agli ultimi mesi. Questi movimenti sono in parte derivati dai brutti dati sull'inflazione USA e quindi dal timore di un'ulteriore stretta sui tassi, che ha impattato soprattutto sull'andamento degli indici azionari e obbligazionari. In questo grafico vediamo il Mini SP500 che perde questa settimana un 4,32%, un brutto ribasso soprattutto negli ultimi due giorni. E lo stesso, possiamo dire, per tutti i principali indici azionari, quindi Nasdaq ma anche Eurostoxx e DAX. Male anche l'obbligazionario, come accennato in precedenza, con il T-Bond che perde l'1,22% e avevano accennato un rimbalzo i Bond, ma nel corso delle ultime settimane si sono praticamente rimangiati tutto o quasi il rialzo che c'era stato. E questa situazione vale sia per i Bond americani che per il decennale europeo, per il Bund che si trova addirittura su dei minimi. Ovviamente chi va bene sono i mercati energetici. Lo sappiamo, questo dipende dall'andamento del conflitto tra Russia e Ucraina che comporta delle pressioni su questa asset class. Vediamo il crude oil che è arrivato a ridosso dei massimi recentemente toccati. Anche la benzina si trova su massimi veramente importanti. Insomma un po' tutto il settore energetico è sotto pressione. Continua inoltre la sottoperformance dell'andamento dei metalli che, al di là del fatto che spesso vengano considerati dei settori ben di rifugio, in cui appunto andare ad investire nei momenti di incertezza, ultimamente stanno facendo veramente male. Guardiamo i rendimenti a tre mesi, sono tutti negativi, i rendimenti a un anno, lo stesso discorso. Quindi sotto performance del settore dei metalli. Cos'altro c'è di interessante da notare? Sulle soft commodity continua il run up del succo d'arancia e del cotone. E come già detto il mercato molto forte è anche quello dei cereali. Oggi diamo un'occhiata alla soia che è uscita da questo trading range, anche molto ampio se vogliamo essere sinceri, però è riuscita a rompere questi massimi importanti e un po' come tutte le commodity del settore dei cereali si trova su massimi importanti. Anche in questo caso figli della pressione su questo mercato che deriva dal conflitto tra Russia e Ucraina. Passiamo adesso alle valute. Vediamo una forza del dollaro nei confronti di tutte le altre valute. Un euro dollaro che si è rimangiato il rimbalzo che aveva avuto. Siamo 1,06 circa in questo momento, ma quello che è interessante notare è vedere la forza del dollaro non soltanto nei confronti dell'euro ma di tutte le altre valute. Infine passiamo al bitcoin. Settimana poco significativa sul bitcoin che praticamente è rimasto invariato e sta consolidando all'interno di questo trading range. Comunque mercato debole anche quello delle criptovalute. Peraltro il bitcoin tra le diverse criptovalute è una da quella che sta tenendo di più. Per quanto riguarda infine la volatilità, ovviamente rimane elevata soprattutto nel lungo periodo, perché nel breve abbiamo toccato livelli veramente molto alti, quindi è un po' calata nel breve termine, ma comunque rimane elevata su un orizzonte temporale di un anno. Se andiamo poi a dare un'occhiata alla struttura a termine della volatilità, vediamo che in questa settimana la volatilità implicita degli indici di volatilità sull'S&P500 è salita. Non siamo in BeGuardation, una struttura che è un po' mista, quindi non ben definita, che non mostra ancora del panico. Il VIX in questo momento si trova 27,72, circa metà dei valori recentemente toccati, quindi è una situazione da tenere sotto controllo, perché sebbene la volatilità implicita non sia particolarmente elevata, alla luce anche dei recenti dati la situazione potrebbe evolvere in maniera anche molto veloce. Passiamo ora al calendario dei rollover. La prossima settimana sarà la giornata delle tre streghe, quindi la scadenza degli indici azionari. Saranno pertanto da rollare gli indici europei, DAX e Eurostox, FIB, eccetera. Gli indici americani invece sono già stati rollati questa settimana, perché solitamente la maggiore liquidità passa da una scadenza alla successiva con una settimana di anticipo rispetto alla scadenza del future. Avremo poi in data 14 da effettuare il rollover anche sul cotone e infine il 15 sul crude oil. Infine ragazzi, se tra voi c'è qualcuno interessato al trading sistematico il mio consiglio è di dare un'occhiata al link che vi lascio in descrizione. Potrete infatti partecipare ad una presentazione gratuita di Andrea Unger che vi introdurrà al suo metodo di trading che gli ha consentito di vincere per ben quattro volte il campionato mondiale di trading con denaro reale. Infine potrete ottenere il suo best seller il metodo Unger e tanto altro ancora. Ok ragazzi, quindi vi do appuntamento alla prossima settimana. Lasciate un like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al nostro canale. Un buon fine settimana a tutti da Francesco Placci.